Che sta arrivando? Deve avere un flauto dentro, anche una chitarra, un mandolino, un pianoforte, non so cosa c'è dentro. Un violoncello. Dici due parole, non parole sconce. Non posso dire due parole? No, parolace no. Fino ad adesso è meraviglioso, ho suonato l'apice della mia carriera flautistica sul Cold Art, perché sono arrivata, silenzio di campanelli, muto, solo il cinghettio dei pochi uccelli della montagna, l'ho suonato con tutti che mi ascoltava, orgoglio. Bene, brava. Orgoglio e voglio continuare così. Bene. Ciao ragazzi, ciao, ciao, forza, ciao, ciao, ciao.